Musica Sta registrando Vieni Vieni un secondo Ah cazzo i bicchieri di ideando Vieni un secondo Vieni un secondo Stai al gioco che te ne frega Fai così Signori piazza San Pietro Guarda che roba Tu sai che si fa scendere la radio Mentre viaggio lavoro Antofando studio Nel saluto Nella macchina Su telefonino Non importa dove sei Ti guardo da vicino Alla razza Limpiere Vi spara musica a palla Con la musica E qui si balla Siamo allora le tue gambe Siamo in blancheracche Basta con le cazzate Basta con le gole Qui si spacca la noia Con la radio a pezzi Ma vi sto numero Un 348 Lo leggi Lo leggi benissimo Perché signore e signori Il primo ospitino Tra virgolette Avremo Max Pezzali Al telefono della radio a pezzi Incredibile Intanto vedo sovraimpressione 340 98 68 174 Mi devo spostare Cominciate a scrivere gli sms In whatsapp Mi raccomando Solo che c'è un codice Sul tuo telefonino Perché è praticamente impossibile Pronto E qua c'è la nasa Hai capito Adesso chiamiamo Allora siamo pronti Siamo pronti Vedo oltre che è già arrivato l'ospite Siamo pronti Siamo pronti No Fermati Non allargarsi Aspetta un attimo Adesso stiamo chiamando l'ospite Allora attenzione Manca solo il parassita E siamo a posto Un attimo Sentiamo se Veramente abbiamo Max Pezzali Un attimo solo Sì pronto? Pronto? Max? Sì sono io Max Pezzali Ai microfoni Della radio a pezzi Buonasera Grazie Grazie Allora Molti Molti non sanno Perché il nostro Il nostro è un programma gogliardico Quindi pensano Che anche tu sia Finto no? Cioè sia una parodia Invece sei veramente tu Vero? Sì Sì sono io Hai detto un sì Un po' In carne e dosa Va bene Va bene Allora tu sei praticamente pronto Per un tour Giusto? Sì Io Noi stiamo per partire Con il Max Live Tour In estate nel 2016 La prima tappa Viene effettuata il Trentino Il 26 di giugno E poi via via Tutte le altre date Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Quindi anche un tour Che toccherà il Triveneto Noi ti chiamiamo Anzi possiamo chiamarti Più volte Perché insomma Avere Max Pezzali Ospite alla radio a pezzi Non è da tutti No? A meno Noi siamo un programma Comunque locale Faremo un servizietto Dedicato a te I pezzi di Pezzali Stai buono Perché qua Si stanno sprecando Le battute su di te Quindi fermiamoci Allora Max Ascolta Ancora Ancora l'ultimissima E come si chiama Il tuo tour Intanto? Max Live Estate Fa parte Dell'album Astronave Max Che è appena uscito Tra l'altro Sì Appunto ripeschiamo Tutti Come la tour Nella scorsa Tutti i vari Le varie tappe italiane Perfetto Allora noi ti ringraziamo Ti lasciamo A proposito Tu stai provando il tour Vero? Non è che vai così Sei con la tua band Quella originale Quella tua Esattamente Sì sì Siamo un attimino Adesso in pausa Però Siamo sotto con il lavoro Fatto bene Stiamo lavorando Alla grande Perfetto Ok Ho saputo che stai facendo Delle prove Con una cover band Che si chiamano Gli anni d'oro Qua del friuli Venezia Giulia Vero? Madonna Esattamente Sì Era una cosa che teneva Un attimino un po' Nascosta Nascosta Sì un attimino Però Bene Sì stiamo lavorando insieme Per fare qualcosa In futuro Perfetto Ti ringrazio Max Buona serata Ho voluto assolutamente Avere Max al telefono Max Pezzali Che ringrazio Alla Radio Fez E ora un video Degli 883 Storici Il tuo gruppo storico E poi veramente inizi Alla Radio Pezzi Ok Ciao Max Perfetto Ti ringrazio Ciao 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 Era Max Pezzali Ed ora un disco Degli 883